buongiorno a tutti nelle scorse lezioni abbiamo iniziato l'analisi dell'organo elettronico didattico a divisione di frequenza in particolare abbiamo iniziato ad analizzare lo schema blocchi dell'ottava principale le 12 note della quinta ottava vengono fornite da 12 oscillatori situati se ognuno sulle schede 1 e schede 2 le 12 onde quadro di adatta frequenza raggiungono gli ingressi del blocco tasti mixer alimentato con un'alimentazione duale all'uscita di questo blocco abbiamo a disposizione un segnale che è la sommatoria il mixing di tutti i segnali relativi a tutti i tasti premuti in contemporanea questo segnale resta all'incirca della stessa ampiezza qualunque sia il numero dei tasti premuti se non si preme nulla è zero abbiamo visto che all'interno di questo blocco tasti mixer esistono delle sottosezioni in cui vi è il condensatore di blocco si tratta di un filtro passa alto la cui funzione è eliminare l'armonica di frequenza zero cioè la componente continua la funzione di questo filtro non è quindi di agire sul timbro ma semplicemente di eliminare la componente continua il segnale di uscita raggiunge poi il blocco del filtro stereo anch'esso alimentato con un'alimentazione duale il filtro stereo è un tipo di filtro invece un passabasso la cui funzione è proprio quella di eliminare o di limitare l'ampiezza di armoniche superiori e quindi di agire sul contenuto armonico e mutare il timbro abbiamo già detto che essendo un organo elettronico questo mutamento sarà sensibile ma pur sempre all'interno di un timbro di base non si tratta di un sintetizzatore all'uscita del filtro abbiamo due canali perché il filtro è in grado vedremo dopo di sdoppiare il segnale prodotto sui due canali destro e sinistro i segnali di uscita dal filtro quindi raggiungeranno gli amplificatori di potenza che hanno lo scopo di far sentire il risultato sonoro sulle casse acustiche concentriamoci ora sul funzionamento del filtro stereo questa immagine ci mostra l'effetto sulla composizione armonica di vari tipi di filtro nel riquadro a abbiamo il suono da filtrare con la fondamentale e tutte le armoniche nell'ipotesi tutte della stessa ampiezza a questo spettro corrisponde la forma d'onda vicina indicata sempre in a in c possiamo vedere l'effetto del filtro passa alto cioè elimina basso vediamo sovrapposto il profilo del filtro sul suono a iniziale potete vedere che tutto ciò che sta sotto la curva del filtro passa in uscita mentre tutto ciò che potenzialmente sta sopra la curva del filtro parliamo del settore a sinistra dell'immagine c viene eliminato abbiamo appunto detto che nel blocco tasti questo filtro serve per eliminare la componente a frequenza zero cioè la componente continua il filtro del blocco del blocco filtro è però un filtro passa basso cioè elimina alti la cui funzione è descritta dalla curva che vi indico con la manina al punto b in questo caso potete vedere che tutto ciò che sta sotto la curva del filtro quindi anche la fondamentale viene mantenuto mentre invece viene eliminato o attenuato tutto ciò che sta al di sopra della curva del filtro e infatti vediamo la parte destra dell'immagine b vuota in sintesi che cosa fa questo filtro conserva la fondamentale ma cambia il contenuto delle armoniche di ordine superiore provocando ovviamente anche una variazione di forma d'onda osserviamo infatti che la forma d'onda in a non è uguale alla forma d'onda in b questa sarà proprio la funzione del filtro della sezione filtro stereo mantenere la fondamentale ed eliminare a nostro piacimento o attenuare perché vengono eliminate solo le armoniche molto in avanti quelle che sono al di sotto della curva del filtro pur essendo armoniche questa la prima riga la fondamentale le altre sono armoniche vengono solo attenuate questo perché perché cambiando il contenuto armonico del suono di partenza e questo corrisponde un mutamento della forma d'onda come potete vedere nelle immagini a b c d e no che mostrano l'effetto filtrante dei vari filtri ancora il passabanda elimina banda e nella parte destra le forme d'onda relative partendo dalla forma d'onda a ancora stavamo dicendo il nostro scopo è proprio eliminare a piacimento una parte delle armoniche acute per modellare il timbro quindi la funzione di questo filtro per noi è una funzione di azione per il timbro di modo che lo strumento non suoni sempre con uno stesso identico suono ma che sia in qualche maniera agire sul suono sia possibile in qualche maniera agire sul suono per mutarne il timbro nel circuito del nostro organo utilizzeremo come filtro passabasso un filtro quello qua mostrato nella figura ad amplificatore operazionale in una composizione circuitale detta vcvs in particolare questo è un filtro passabasso vcvs i filtri vcvs sono filtri del secondo ordine ciò significa qua vedete la funzione di trasferimento che oltre la frequenza di taglio indicata qua f0 la loro funzione di trasferimento si impenna verso il basso dando luogo a un profilo di attenuazione la cui pendenza è 40 decibel per ottava è una pendenza più elevata dei 20 decibel per decade scusate non per ottava 40 decibel per decade è una pendenza più elevata dei 20 decibel per decade che sono invece le pendenze tipiche dei filtri del primo ordine allora quindi trattandosi di un filtro del secondo ordine è un filtro con una pendenza di taglio decisamente superiore doppia rispetto a quella del primo ordine e che quindi capace di avere un'azione più incisiva sul timbro a seconda del valore dei componenti che utilizziamo per comporre il filtro possiamo avere diverse situazioni tutte relative alla risonanza la risonanza è il comportamento che il filtro presenta in corrispondenza della frequenza di taglio a seconda del dimensionamento dei componenti possiamo avere funzioni dette Bessel o Butterwall in cui regolarmente alla frequenza di taglio il filtro presenta un'attenuazione di meno 3 decibel modificando il valore dei componenti arriviamo alla situazione cebice in cui vediamo che diversamente da prima in corrispondenza della frequenza di risonanza il filtro non ha un'attenuazione di 3 decibel ma presenta un picco detto appunto risonanza di amplificazione tendendo quindi non ad attenuare l'armonica relativa alla frequenza di taglio F0 bensì ad amplificarla quindi noi realizzeremo un filtro di secondo ordine con pendenza 40 decibel su decade un filtro passabasso cioè elimina alti elimina le armoniche e metteremo al posto di r1 e r2 dei trimmer che ci permetteranno sia di cambiare la frequenza di taglio per decidere su quali settori armonici ad andare a incidere sia di agire sulla risonanza di modo che noi si possa essere o nella situazione di batter board o quella di cebice nel caso in cui il valore di risonanza sia elevato si ottengono degli effetti audio interessanti dovuti all'esaltazione dell'armonica che corrisponde alla frequenza di taglio del filtro ecco dunque lo schema elettrico che realizza il blocco del doppio filtro con uscita stereo vediamo di analizzarlo non consideriamo al momento questa parte che voi vedete sulla destra che indico con la manina che ha la funzione di realizzare l'effetto simil stereo e ne parleremo dopo analizziamo invece la parte vera e propria del filtro quella qui sulla sinistra il segnale d'ingresso giunge alla zona filtri all'ingresso dei filtri arrivando dal connettore da uno dei due connettori della scheda il quale connettore avrà pure i terminali per i segnali di uscita dei due canali un altro connettore invece servirà per l'alimentazione che è duale e riporta quindi vcc meno vcc più e generi potete notare che il filtro è doppio modo per cui la scheda si chiama doppio filtro infatti abbiamo due sezioni di filtro identiche questa superiore e questa inferiore si può come appunto le due sezioni sono assolutamente identiche possiamo ragionare su una sola delle due potete osservare che effettivamente ritrovando la resistenza all'ingresso e la situazione che verificate qui dei condensatori e delle resistenze siamo in presenza di un filtro vcvs di tipo passa basso i due trimmer uno sulla resistenza di ingresso qui r1 e l'altro sulla resistenza di ingresso r3 ci permetteranno di andare ad agire sulla frequenza di taglio del filtro e sulla risonanza in realtà in un filtro vcvs cambiare il valore di questi due resistori non impatta solo esclusivamente uno sulla risonanza come nel caso del trimmer r2 ed esclusivamente l'altro sulla frequenza di taglio come in r4 agendo su ognuno dei due resistori sia si impatta sia sulla frequenza di taglio sia sulla risonanza ma i componenti sono stati dimensionati di modo che r2 abbia un effetto più che altro sulla risonanza ed r4 abbia un effetto più che altro sulla frequenza di taglio come potete osservare qui nella figura di filtri passa basso vcvs ve ne sono due versioni la prima prevede l'inseguitore di tensione quindi con un'amplificazione unitaria la seconda un amplificatore operazionale montato come amplificatore non invertente che permette anche un amplificazione e quindi picchi di risonanza più alti noi abbiamo scelto questa seconda configurazione per i suoni più interessanti che se ne possono ottenere a causa del fatto che una delle armonica in corrispondenza della risonanza può essere maggiormente esaltata ecco il foglio di calcolo automatico per questo tipo di filtro vi rimando ad elettronica per una trattazione di progetto più approfondita abbiamo inserito nei riquadri i valori dei componenti relativi al nostro progetto abbiamo inserito in particolare un valore che prevede un'alta risonanza in automatico il software calcola la funzione di trasferimento ci indica una frequenza di taglio di circa 3 kilohertz e ci fa vedere l'effettivo andamento del modulo del grafico di bode del filtro in questione che potete osservare presenta effettivamente il picco di risonanza io in queste immagini vi mostro delle simulazioni fatte su multisim utilizzando il plotter di bode e qua siamo in condizioni di risonanza a 0 frequenza di taglio al massimo quindi questo trimera 0 questo al massimo e otteniamo una risonanza nulla una frequenza di taglio minima che la simulazione ci indica in 311 hertz in questo caso la frequenza di taglio la troviamo in corrispondenza del meno 3 db passando invece ad una situazione in cui portiamo al massimo il trimmer di risonanza lasciando al massimo il trimmer della frequenza di taglio abbiamo uno spostamento della frequenza di taglio stessa verso i 311 hertz notate che la pendenza del filtro è sempre elevata in questo caso invece portiamo a zero il trimmer della frequenza di taglio e a zero il trimmer della risonanza otteniamo una frequenza di taglio di 9,6 kilohertz a quest'alta frequenza un effetto di risonanza inizia ad avvertirsi anche se il trimmer è tutto a zero in ultimo potete vedere trimmer risonanza al massimo trimmer frequenza di taglio al basso otteniamo un elevato picco di risonanza con una frequenza di taglio di 3 kilohertz questa situazione è proprio la situazione dei valori che abbiamo inserito nella tabella di calcolo e possiamo appunto vedere che il risultato coincide con una frequenza di taglio di circa 3 kilohertz e un picco di risonanza abbastanza pronunciato esattamente come nella situazione rilevata in simulazione allora quella che state vedendo è la simulazione su multisim del circuito proposto in particolare la sezione filtrante è collegata al circuito tasti mix quella che stiamo vedendo è la forma d'onda del do 5 ovviamente per esempio premendo i tasti della tastiera posso passare a pressioni di più note in contemporanea qua due note due do questa situazione per esempio è quella del do con il sol accluso ragioniamo però per semplicità di analisi su un solo oscillatore su una sola onda quadra di ingresso siamo nella situazione con risonanza trimmer risonanza tutto a zero e stessa cosa per la frequenza di taglio in questo momento vedete il filtro è tutto aperto passano tutte le armoniche infatti abbiamo un'onda quale in coerenza con il calcolo che abbiamo visto prima anche in queste condizioni vi è una leggera risonanza e la possiamo notare in questa piccola oscillazione che sia a tutte le transizioni vediamo cosa succede agendo sulla frequenza di taglio mano a mano impoveriamo di armoniche elevate la forma d'onda quindi diventa sempre meno un'onda quadra e si avvicina sempre di più alla forma d'onda triangolare che otteniamo praticamente con un'azione al 100% possiamo quindi passare dalla forma d'onda quadra alla forma d'onda triangolare se esaltiamo la risonanza in questa situazione di filtro tutto chiuso sono quindi tagliate molte armoniche superiori ci possiamo accorgere che in questa situazione la risonanza non ha molta azione in quanto appunto sono presenti poche armoniche l'unica cosa che succede è che con l'esaltazione della fondamentale possiamo osservare sia il deviare verso un'onda più sinusoidale rispetto a quella totalmente triangolare che abbiamo con una risonanza molto bassa riapriamo totalmente il filtro passa tutta l'onda quadra aumentiamo un po' la risonanza possiamo osservare ecco l'esaltazione dell'armonica quella che appare in quell'oscillazione è l'armonica che mano a mano che alziamo la risonanza è sempre più prepotente fino di fatto ad arrivare alle soglie dell'autoscillazione in cui vedete che è presente ancora la fondamentale ma l'oscillazione dell'armonica ha un'ampiezza tale da essere udibile impattando quindi pesantemente sul risultato sonoro che potremmo ottenere ora che è stato chiarito come funziona ogni singola sezione filtrante quella in alto e quella in basso ricordando che sono identiche vediamo di capire perché ve ne sono due e come funziona e a che cosa serve la sezione più a destra che serve a realizzare l'effetto simil stereo per comprendere dobbiamo dare un'occhiata all'amplificatore operazionale in configurazione invertente se all'ingresso abbiamo due segnali V1 e V2 l'uscita sarà la somma di questi segnali ognuno con un'amplificazione propria per quanto riguarda il segnale V1 l'amplificazione sarà il rapporto tra R ed R1 per quanto riguarda il segnale V2 invece questa amplificazione sarà il rapporto tra R e R2 essendo presente sempre R in pratica possiamo determinare il tasso di amplificazione di V1 e V2 nella miscela finale agendo su R1 ed R2 è proprio quello che si fa nella sezione di uscita potete notare che vi sono due amplificatori sommatori all'ingresso dei quali previene sempre l'uscita di tutti e due i filtri però nel sommatore superiore il filtro in alto entra con un rapporto 8,2 kg diviso 10 kg cioè leggermente meno di 1 ma il filtro sottostante invece entra con un rapporto 8,2 diviso 39 kg cioè una forte attenuazione in pratica il sommatore superiore darà in uscita una grande proporzione di segnale derivante dal filtro superiore e una piccola porzione di segnale derivante dal filtro sottostante osservando i valori ci possiamo accorgere che la situazione sotto è invertita cioè il sommatore sotto raccoglierà una grande porzione del segnale che proviene dal filtro di sotto e una modesta porzione del segnale che proviene dal filtro di sopra quindi partendo da un ingresso solo noi otteniamo due uscite una che è la composizione di gran parte dell'effetto del filtro superiore e poco effetto del filtro inferiore l'altra che è all'opposta è la composizione di gran parte dell'effetto del filtro sottostante e piccola parte di quello superiore questo ci permette di ottenere un effetto simil stereo che cosa intendiamo per effetto simil stereo intendiamo che nei due canali otteniamo un segnale che è quasi identico ogni canale porta dentro di sé un segnale che è la variazione del segnale principale un effetto di cui ci possiamo accorgere mandando la simulazione in questo momento voi potete osservare i due filtri sono regolati tutti e due alla stessa maniera cioè abbiamo zero risonanza e il trimmer della frequenza di taglio è in entrambi i casi portato a zero mettiamo, centriamo meglio i segnali di modo che siano facilmente visibili ecco qua le due tracce che osservate sull'oscilloscopio sono i due segnali in uscita dai due sommatori quindi chiamiamoli canale sinistro e canale destro adesso osserviamo il segnale superiore io agisco molto sul filtro superiore potete osservare che infatti la forma d'onda relativa al canale del filtro superiore è cambiata molto in coerenza con l'azione del filtro superiore anche la forma d'onda dell'altro canale è cambiata e se potete osservare contiene traccia dell'ammutamento che vi è stata nella traccia superiore però in forma molto più limitata facciamo l'esempio opposto agiamo molto sul filtro sottostante per esempio agiamo sulla risonanza del filtro sottostante e anche in questo caso ci possiamo accorgere che il comando in questione va a impattare molto sulla traccia inferiore e molto meno sulla traccia superiore aumentiamo ancora e ecco qua potete vedere che la risonanza impatta di più sulla traccia inferiore cioè relativa al filtro inferiore e meno su quella superiore adesso cambiamo ancora la frequenza di taglio per esempio nella traccia superiore ed ecco potete vedere che ha impattato molto nella traccia inferiore e poco in quella superiore in sintesi otteniamo sui due canali destro e sinistro due segnali che sono il risultato mixato dell'azione sui due canali azione che impatta diversamente appunto a seconda che si agisca sul filtro superiore piuttosto invece che sul filtro inferiore questo potete osservare le due tracce fa sì che i due altoparlanti quelli del canale destro e sinistro diffondano un suono che nella sua radice è uguale ma che contiene nei due canali delle sottili differenze e questo darà all'orecchio l'illusione di un suono stereo un effetto che abbiamo appunto chiamato simil stereo quindi in coerenza con lo schema blocchi nel blocco filtro entra un segnale e ne escono due su due canali separati destro e sinistro abbiamo quindi dato un'occhiata al funzionamento della scheda doppio filtro abbiamo capito perché doppio filtro abbiamo capito perché con uscita stereo ovviamente immancabili i connettori vi ne ho già parlato prima sono due in questa scheda uno che porta il segnale di ingresso e i due segnali di uscita e uno per l'alimentazione duale come al solito una proposta di sbrogliato su doppia faccia e una rappresentazione di come si presenta la scheda una volta realizzata sul solito formato Eurocard notiamo che non si usano potenziometri multigiri per le tarature dei due filtri perché non è necessaria una precisione una stabilità come quella necessaria sugli oscillatori dell'ottava principale che appunto a questo scopo moltavano i multigiri ma si possono utilizzare dei normali potenziometri ad alberello avendo però l'accortezza di situare sull'estremo della scheda di modo che le manopole relative possano poi trovare alloggiamento sul pannello comandi dell'organo quindi in sintesi si è visto come a partire dagli oscillatori che producono le onde quadre relative alle diverse note dell'ottava principale si passa attraverso un blocco che contiene i pulsanti fisici della tastiera e mixa i segnali per poi andare a un filtro che riceve in ingresso un solo segnale ma ne fornisce in uscita su due canali secondo la combinazione tra gli effetti filtranti che abbiamo già visto precedentemente quindi alla fine il segnale arriva agli amplificatori di potenza saranno due uno per il canale sinistro e uno per il canale destro amplificatori di potenza ai quali poi si dovrà collegare i due autoparlanti di uscita che solitamente sono autoparlantini da 8 watt la scheda dell'amplificatore richiede un'alimentazione duale più e meno VCC e GND vediamo quindi ora di capire e di dire qualcosa sulla scheda degli amplificatori potete osservare qua lo schema elettrico dei due amplificatori identici l'uno per il canale destro l'uno per il canale sinistro qui il connettore a cui arriverà l'alimentazione l'ingresso dalla sezione dei filtri stereo ingresso destro e sinistro e l'uscita destra e sinistra a cui collegare poi degli autoparlantini appunto da 8 volt diamo quindi un'occhiata a uno dei due studi dei due stadi scusate di amplificazione essendo identici possiamo osservare che si tratta di un amplificatore operazionale TDA 20 e 30 montato in configurazione non invertente infatti il segnale entra sull'ingresso più abbiamo una resistenza tra l'uscita e l'ingresso meno e una resistenza qui un'impedenza tra l'ingresso meno e massa è la situazione tipica propria appunto dell'amplificatore operazionale montato in configurazione non invertente presenta una resistenza a ingresso infinito una resistenza di uscita nulla nell'ideale nella realtà non è così è un'amplificazione che è uno più il rapporto fra le resistenze RF e R1 trattandosi di un amplificatore non invertente avremo dato il segnale di ingresso la sinusoide più bassa ad esempio in uscita un segnale amplificato cioè più ampio ma perfettamente in fase con il segnale di ingresso ora qualora l'autoparlante sia collegato direttamente all'uscita dell'amplificatore operazionale dobbiamo tenere conto delle correnti che l'amplificatore stesso deve erogare verso l'autoparlante è facile rendersi conto che se si vuole ottenere un discreto volume la potenza sull'autoparlante deve essere sufficiente questo significa che l'amplificatore deve fornire una corrente notevole all'autoparlante per esempio in questa illustrazione su un'autoparlante da 4 ohm le impedenze tipiche degli autoparlanti sono 4 o 8 ohm con un amplificatore che fornisce in uscita un valore efficace di 20 volt scorre una corrente di ben 5 ampere teniamo presente che un normale amplificatore operazionale può fornire in uscita al massimo una decina di miliampere c'è una corrente infinitamente inferiore a quella che è necessaria per pilotare un'autoparlante elettrico facciamo due calcoli nello schema vediamo che il TDA 20 e 30 che è pur sempre un'operazione ma di potenza è alimentato con un'alimentazione duale di più o meno 9 volt vediamo che cosa significa questo in termini di potenza possiamo vedere in questa immagine che la potenza si può calcolare come il rapporto v quadro diviso r però nel caso di segnali alternati come l'onda quadra come v dobbiamo usare il valore efficace ecco qui una tabella che ci dice il rapporto tra il valore efficace di una forma d'onda e la sua ampiezza famoso il caso della sinusoide in cui il valore efficace è l'ampiezza diviso radice di 2 nel caso dell'onda quadra bipolare che è il nostro il valore efficace corrisponde all'ampiezza dell'onda quindi considerato che l'amplificatore è alimentato con una tensione di 9 volt e che quindi l'ampiezza dell'onda quadra che al massimo potrà fornire in uscita saranno i 9 volt diciamo diminuiti di un volt un volt e mezzo di caduta interna all'amplificatore facciamo il caso di una caduta di un volt e mezzo quindi che l'ampiezza massima dell'onda quadra in uscita possa essere di 7 volte e mezzo quindi aiutiamoci con questo foglio di calcolo automatico con una tensione di 7 volte e mezzo che abbiamo già visto coincidere anche col valore efficace su un autoparlante di resistenza di 8 ohm l'amplificatore dovrà sviluppare circa un ampere di corrente e potrà fornire sul carico circa 7 watt abbiamo già detto che un normale amplificatore operazionale può fornire in uscita una decina di mili ampere estremamente meno dell'ampere che sarà necessario sull'autoparlante per la nostra applicazione si sceglie quindi un opportuno integrato amplificatore operazionale però di potenza quale il TDA 20 e 30 quindi insomma in sintesi ecco la scheda del doppio amplificatore abbiamo detto due sezioni uguali sopra e sotto abbiamo detto realizzate con un'operazione di potenza il TDA 20 e 30 notiamo il potenziometro di ingresso si tratta di un potenziometro necessario per tarare il volume del segnale infatti potete notare che se il cursore è tutto in basso l'ingresso è a massa quindi non viene nessun segnale che entra in amplificatore se il potenziometro è tutto in alto siamo direttamente collegati al segnale sia la massa e la amplificazione e quando il potenziometro è in una via di mezzo si raccoglie una partizione del segnale d'ingresso potendo così regolare il volume in uscita su ognuno degli autoparlanti siccome è scomodo avere una doppia regolazione di volume per ogni canale sarebbe bene avere un doppio potenziometro calettato su uno stesso alberello se fosse disponibile ricordiamo che a causa della sensibilità al volume del sistema uditivo umano delle nostre orecchie che non è lineare le nostre orecchie non percepiscono tutti i volumi alla stessa maniera sono molto più sensibili a suoni di bassa intensità che a suoni di alta intensità per avere la sensazione di una regolazione di volume lineare durante la rotazione dell'alberello del potenziometro di volume bisognerà utilizzare un potenziometro di tipo logaritmico dicevamo appunto TDA 20 e 30 ve lo mostro in figura si tratta di questo integrato il costruttore già ci dà uno schema di montaggio che potete vedere è esattamente identico a quello che noi utilizziamo per la nostra realizzazione i condensatori C3 C9 C2 C15 non rientrano nel funzionamento dell'integrato ma servono solo a evitare disturbi sull'alimentazione si mette sempre in parallelo un condensatore elettrolitico e uno ceramico quello elettrolitico molto efficace sui disturbi lenti e quello ceramico sui disturbi veloci tutto il resto ricarica fedelmente lo schema indicato dal costruttore il TDA 20 e 30 supporta una potenza massima di uscita di 14 Watt noi arriveremo a 7 quindi l'integrato è adatto malgrado tutto scalda molto quindi va montato su dei dissipatori di calore come si vede nelle immagini proposte quindi per concludere lo schema dell'amplificatore doppio di potenza a cui collegare le casse in uscita una proposta di sbrogliato doppia faccia e una proposta di costruzione della scheda sul formato Eurocard notiamo che sono stati lasciati di fronte ai due integrati di potenza stato lasciato lo spazio per montare il dissipatore di calore e il potenziometro di volume nel caso in cui sia un doppio potenziometro sarà necessario solo uno da mettere in posizione esterna affinché possa corrispondere la manopola di volume sul pannello frontale dell'organo elettronico dell'organo elettronico di rice слare